La novità di quest'anno è Hitman. Abbigliamento uomo in puro stile italiano. Classico, elegante, sportivo. Hitman è un ampio spazio espositivo dove puoi scegliere tra innumerevoli proposte di abbigliamento, comprese le taglie comode. In questo periodo saldi con prezzi mai visti. Sconti fino all'80%. Hitman, italiana manifatture. Via Madonna del Carmine 22, Agropoli, Salerno. Seguici su Facebook e Instagram.